Ciao a tutti! Bentornati! Stiamo registrando di nuovo in occasione dello Yule Festivals! Evviva! Perché con l'ultima patch, quella di pochi giorni fa, hanno introdotto una nuova cavalcatura, lo Snow Will Steed! E potevamo farcela mancare? Assolutamente no, io pure la voglio! Adesso andiamo a acquistarla, così la facciamo anche vedere! Allora, Browse... 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 Ah, lo devo comprare prima, come al solito, mi sbaglio, devo comprare prima il documento di proprietà! Ma com'è sto Snow Will Steed? Lo voglio vedere? Eh, è un attimo che lo compro e lo vediamo! Browse... Glittering... Sì, perché lo voglio pure io, però mi devo andare a fare la corsetta sotto! Browse the shops? Browse... No! rigol друга Snow Will Steed... Ma religione! Guarda, se vero, forse viene stronzata! Intanto lo potete ammirare, no, no, ne potete ammirare perché non mi vedo Il mio fantastico vestitino! E se ti giri... E se ne incida credo volo lo Snow Will Steed! Vediamo come è sto Snow Will Steed va! Chiudiamo... vediamo com'è sto cavallino adesso leviamo nomi e interfaccia ah vedi bella che li sa veramente sto cavallino è carino effettivamente si quello che adesso lascia è il Flosty è quello che sta qua dietro come potete notare aspetta un po' è veramente carino aspetta che lo voglio un attimo vedere meglio io faccio un po' io faccio ammirare anche il vestito mi lascia così non lo rompe è bellissimo e l'ho comprato in tono per intonarmi il mio cavallo è proprio carino sono proprio un assilista tu lo sei vestito come un cingione no sono vestito come un combattente con questo cavallo vabbè abbiamo finito di annoiarvi con per oggi è stato una puntata abbastanza breve perché semplicemente volevamo la voglio pure io beh sono 20 token io quasi quasi ci porto anche il warden a fare sta roba no pure io voglio questo cavallo il festival termina il 30 oppiamo in tempo continui no devi beccare tutti i frostbord ho le leggi cambiati mi sembra che 8 unit aspetta 9 9 no ce la puoi fare secondo me un paio di giri bastano di questo va bene finiamo di discutere di queste cose vabbè sarà che non è stato tanto un piacere per strike oggi io avrei continuato un po' di più a intrattenervi con le nostre minchierie però mi rendo conto che era solo per far vedere il cavalluccio va bene ciao a tutti ciao